Io credo che il premio è cresciuto molto e oggi abbiamo avuto la testimonianza di chi ricopre incariche a livello nazionale nel sistema confindustriale a livello di innovazione di far rientrare il premio Best Practice di Salerno tra iniziative che rientrano nelle iniziative nazionali del sistema confindustriale. I giovani ovviamente in questi due giorni la novità è che abbiamo voluto anche qui giocare in concreto, abbiamo chiesto a delle nostre aziende che abbiamo selezionato di mettere sul tavolo dei loro problemi e chiamato degli istituti scolastici sono intervenuti 40-50 studenti che in questi due giorni cercheranno di trovare una soluzione a queste problematiche che le aziende hanno. È un modo bello per far coinvolgere i giovani e probabilmente avere delle idee nuove, scevre da ogni schema che un ragazzo di 16-17 anni può portare all'attenzione. Anche questo pezzo, cioè il mondo degli studenti, si aggiunge all'ecosistema di attori che guardano alla crescita passando per la innovazione e per le nostre aziende. Grazie!